Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi andiamo avanti con la saga del grandissimo Gary Kasparov. Ma prima di tutto fatemi salutare e ringraziare Santiago, nuovo abbonato alle mie video lezioni, che ormai sapete, trovate qui sul canale YouTube. Cosa sono? Sono una libreria che comprende già più di 21 ore di video, tutte a vostra disposizione, per solito 2,99€ al mese. E naturalmente tutti i mesi si arricchiscono, questa libreria si arricchisce di nuovi contenuti. Ma torniamo subito al match di oggi. Siamo nell'ottobre del 1981 e Kasparov ha ancora assolutamente 18 anni, però è già tra i più forti del mondo. A parte il campione del mondo, che è Karpov, e dal suo sfidante nel prossimo match mondiale, Korchnoi, praticamente tutti i più forti e grandi maestri del mondo si ritrovano nella cittadina olandese di Tilburg per il quinto anno di questo tradizionale torneo. Si presenta anche Kasparov, che al primo turno deve affrontare il famoso Genna Sosonko. Non dimenticate Dike, partiamo! Gary Kasparov di bianco apre la partita con D4, Sosonko risponde con cavallo in F6. E allora arriva C4, E6, cavallo in F3, quindi si evita la Nimzo indiana, D5 la spinta al centro, cavallo in C3 e arriva lo stesso al fiero in B4, ma questa non è la Nimzo indiana, è la difesa Ragosin. Prima di andare avanti con lo sviluppo dei pezzi, Gary Kasparov fissa la struttura pedonale al centro. Allora, C per D5, E per D5, questo è un metodo, questo cambio immediato per fissare la struttura, che Kasparov insegnerà a Magnus Karzen, che se non lo sapete, nel 2009 lo chiamò, lo stipendiò e preselezione da Kasparov in Norvegia, credo la collaborazione di D4 circa un anno, addirittura per ingaggiare Kasparov non si sa la cifra che gli fu data, ma furono messi in mezzo anche numerosi sponsor, quindi doveva essere stato un compenso notevole. Quindi, nel 2009, chiarificò questo metodo anche a Magnus Karzen. E adesso che la struttura centrale dei pedoni è fissata, tempo di sviluppare nuovi pezzi. Arriva infatti, giocata da Kasparov al fiero in G5, che inchioda il cavallo, H6, l'alfiero sotto attacco, si ritira in H4, mantiene l'inchiodatura. E allora Sosonko con C5 attacca il centro, E3 lo difende e libera lo sviluppo dell'alfiere chiaro. Questa posizione conosciutissima, ci sono tante buone continuazioni a disposizione del nero, arrocco corto sicuramente giocabile. Anche C4, anche lo sviluppo del cavallo, attenzione, lo sviluppo del cavallo più giocato è il cavallo in C6, pare però, nella teoria moderna, che cavallo in D7 sia la soluzione migliore. Tra le mosse più giocate c'è anche la spinta G5 giocata in questa partita dal nero. Allora Kasparov riporta l'alfiere in G3, cavallo in E4. Questa è una bella mossa e fa anche una bella minaccia, perché non solo minaccia di togliere al bianco la coppia degli alfieri, minaccia più che altro la cattura vincente in C3, perché dopo cavallo per cavallo, pedone che ricattura, l'alfiere ricattura con scacco, attacco doppio, che vince la qualità. E allora, torre in C1, sicuramente utilizzabile da Kasparov per proteggere il cavallo in C3 una seconda volta, si può essere anche più aggressivi. E infatti Kasparov giocherà alla mossa 10, alfiere in B5 con scacco. La partita, già con questa mossa si è complicata, si complica ulteriormente, perché Genna Sosonko, invece di giocare al fiere in D7, gioca a quel tempo la novità re in F8. E come mai? Quindi la partita in questo momento diventa originale. Ma cosa sarebbe successo se il nero avesse giocato al fiere in D7? Guardiamolo subito. Dopo al fiere in D7, al fiere per al fiere con scacco, è il cavallo che ricattura, torre in C1, veramente adesso bisogna difendere questa casa C3, arrocco corto per il nero, arrocco corto per il bianco, con una partita completamente equilibrata. Pensate, questa stessa posizione è stata giocata nel 2011, tra due campionesse del mondo di scacchi femminili, la russa Costegno contro Oji Fan, partita poi terminata in parità. Ma allora, come mai Sosonko ha giocato questa re in F8? Perché guardate che succede. Se adesso il bianco gioca torre in C1, non giocata da Kasparov, arriva a C4 e questa mossa, vedete, in qualche modo intrappola l'alfiere bianco, e il bianco qui dovrà fare qualcosa, perché guardate, A6, B5 ed al fiere intrappolato, per evitare di perdere il pezzo, perderà un tempo, e questo tempo, secondo Sosonko, permetterà al nero di prendere in mano l'iniziativa. Ora, riguardando tutto col computer, in realtà il bianco rimane preferibile, ma l'idea è particolarmente ingegnosa. E allora, ritornando alla nostra partita, dopo re in F8, Kasparov la annusa proprio questa C4, e che cosa fa? Cambia i pedoni. D per C5, mossa migliore, pensate, ma che permette quella terribile cattura in C3 che dicevamo prima. E come mai? Ora lo vediamo subito. Perché Sosonko non ci pensa un secondo, cavallo per cavallo in C3, pedone ricattura, l'alfiere ricattura con scacco, vince la qualità. Ma a quale prezzo? Kasparov, scusatemi, Kasparov porta il re in E2, alfiere per torre, la donna ricattura in A1. Fermiamoci un attimo. Sono passate 14 mosse, si capisce che il prezzo della vittoria di questa qualità è particolarmente alto. Come mai? Non solo la ricattura di donna arriva con tempo perché minaccia la torre, ma il nero, seppur in vantaggio di materiale, non ha neanche un pezzo sviluppato, guardate quelli del bianco, con il re che praticamente ha fatto un arrocco artificiale, e quindi anche la torre è pronta per entrare in gioco, e quindi la situazione è problematica. Ora, torre sotto attacco, Sosonko gioca F6, con il vantaggio di sviluppo, con il suo re sicuro, e con quello del nero non arrocco, Kasparov fa partire l'attacco. Arriva H4, che naturalmente vuole aprire linee di attacco, G4, cavallo sotto attacco, centralizzato in D4. E allora, re in F7, vuole, se non altro, liberare la torre, liberare la donna, anche dalla protezione del pedone, alfiere in D3, e adesso, Sosonko deve sviluppare il più rapidamente possibile i pezzi sul lato di donna. Tant'è che arriva cavallo in D7, che attacca il pedone, donna riportata al centro in C3, lo protegge, cavallo in E5, guarda all'alfiere, ma non se ne cura Kasparov, gioca cavallo in B5, vuole portarlo sul fortissimo avamposto D6, e questa mossa arriverebbe con scacco, e da D6, come mai è forte questo avamposto? Perché nessun pedone del nero, non ci sono, può scacciare il cavallo. E allora, donna in E7, cavallo in D6 con scacco. Dove deve andare questo re? Non può andare in E6, perché pensate, alfieri in F5, è direttamente scacco matto. Non funziona neanche re in G7. Capiamolo subito, facciamoci subito venire un campanello di allarme, come mai non funziona? Guardate, questa brutta geometria, scusatemi, re e donna, assalto di cavallo. Direte voi, è vero che c'è l'alfiere, ma guardate che succede, alfiere in F5, minaccia di vincere la qualità, e allora purtroppo, se l'alfiere cattura, si perde la donna. Allora bisogna giocare alfiere in D7, dove almeno c'è la donna che protegge, alfiere per alfiere, la donna ricattura, ma si perde un pedone. Alfiere per cavallo, pedone ricattura, la donna ricattura con scacco, cadrà anche un secondo pedone. posizione vincente per il bianco. E allora dopo questo forte scacco di cavallo, Sosonko costretto a riportare indietro il re in F8, ma vedete che di nuovo la torre in H8, non ha più sbocchi, e di nuovo fuori dal gioco. Allora arriva torre in D1, B6, oh, cosa fa questa mossa? Non gliene importa nulla nel pedone in C5 a Sosonko, lui vuole cambiare cavallo sull'alfiere, e poi dare lo scacco di alfiere da A6. E allora, visto che prima non gli interessava perdere la coppia, stavolta alfiere in C2, giocata da Kasparov, è veramente la mossa migliore. Mantiene la coppia, evita qualsiasi tipo di tatticismo, apre l'attacco della torre sulla colonna di... Allora, il nero gioca a questo scacco, alfiere in A6 con scacco, perché almeno libera la torre, re sotto attacco si porta in E1, alfiere in C4 a proteggere il pedone. Ma qui arriva cavallo per alfiere, pedone ricattura, e noi siamo arrivati al nostro quizone. Qual è secondo voi la continuazione migliore, la mossa fortissima a disposizione del bianco? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo a noi, Kasparov giocherà la mossa migliore, torre in D6. Ottime come alternative, ma proprio mosse eccellenti, erano torre in D5, terzo attacco su questa casa, E5, ma anche addirittura far passare il pedone, giocando C6. Ora però, questa torre in D6 cosa minaccia? Minaccia torre per pedone con scacco? E qui che si fa? Questa mossa non solo dà lo scacco, minaccia di vincere un pezzo, e allora quando la donna cattura vedremo che succede. Guardiamolo subito che succede, e facciamo giocare al nero B per C5, non giocata da Sosonco in partita, in modo tale che capiamo bene questa minaccia. Torre che cattura in F6 con scacco, minaccia pure di vincere il cavallo, donna per torre, l'alfiere cattura e dà l'infilata, donna in E6, alfiere per torre, ci possiamo fermare qui? Perché per il computer è più 7, si capisce come mai due alfieri contro la torre la dominano, un re del nero totalmente scoperto, un re del bianco invece al sicuro. Ritorniamo a noi, allora dopo torre in D6 che minaccia questo disastro, Sosonco gioca a torre in E8, eh ma alfiere per cavallo c'è lo stesso, il pedone ricattura, Kasparov vince il pedone in C4, minaccia di far saltare tutto, di nuovo B per C5 non serve a niente, guardate che succede, purtroppo troppi pezzi attivi e troppi pezzi passivi, dopo B per C5 che sembra, cioè che lascia questa torre sotto attacco, ma qui arriva alfiere in G6, vedete che cosa fa? Insieme alla donna, guarda a questa casa F7, quindi la donna in nero non può catturare o si prende matto in 1, attacca pure la torre questo alfiere in G6, non permette neanche torre in H7, allora torre in B8, mi pare l'idea migliore, torre in E6 attacca la donna, e la donna è persa se si porta in D7, guardiamo perché, perché dopo donna in D7, torre in F6 con scacco, e dove il re si muove e si muove, l'attacco o l'infilata o l'attacco doppio della torre, vincono la donna, e dopo torre in E6, se donna in D8, qui inizia a cadere tutto, donna che cattura in C5 con scacco, se il re si porta in G7 un'altra cattura di donna con un nuovo scacco, re in G8, torre in D6, attacca la donna che non può difendere il pedone, cade anche il pedone, addirittura dopo la cattura del pedone in E5 di donna, c'è già il matto forzato, e allora dopo questa cattura, arriva donna in F7, quindi classica idea difensiva, Susonko cerca di cambiare le donne per togliere forza a questo attacco, declina gentilmente Kasparov, donna in E4, arriva a G3, secondo attacco sul pedone, ma qui basta catturare, F per G3, dopo 29 mosse, Jenna Susonko abbandona, perché Kasparov sta per far partire l'attacco, l'attacco decisivo, guardate, non si riesce neanche a cambiare le torri, perché guardate che succede, dopo torri in E6, unico modo per tentare il cambio torri, basta giocare l'inchiodatura al fiere in B3, che è micidiale, e di nuovo paradossalmente, stavolta, scusate, B per C5 è giocabile, ma guardate che succede, al fiere in B3, donna sotto attacco, costretta ad andare in H5, arriverà G4 che è protetta, donna che cattura in H4 con scacco, ma il re si sposta e la donna è fuori dai giochi, bisognerà riportarla in G5, donna in F3 con scacco, re in E7, ma arriva torri in E6 con scacco, troppo forte, questo alfiere, re in D8, la donna dallo scacco da 8, re in D7, donna in B7 con scacco, re in D8, torri in D6, scacco matto, quindi inizia bene il torneo Gary Kasparov, ma più che altro cosa ci lascia? con questa partita ci dimostra come non si deve, non dobbiamo focalizzare tutte le nostre energie solamente sul guadagno di materiale, perché il materiale si è importantissimo, ma importantissimi sono anche lo sviluppo e la sicurezza del re. spero che la partita vi sia piaciuta, naturalmente se vi è piaciuta non dimenticate di like, non dimenticate di iscrivervi al canale, e io mi metto a lavorare al prossimo video, quindi ci vediamo presto. Grazie.